Mi racconti cosa è successo quella sera, cosa ti ricordi? Niente, queste due persone che comunque conoscevo di vista a livello di ciao ciao nella palestra dove io, che frequento, sono uscito dalla palestra e li sono trovati fuori nel veicolo ad aspettarmi perché avevano dei problemi con me. Non chiedevo, dico vabbè parliamone e così colà, vieni 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 portandomi sempre, loro cercavano di spingermi più in dentro al veicolo. Io ho detto beh quale cosa non mi piace, mi sono spostato verso Corso Mazzini sapendo che lì comunque ci potrebbero essere dei passanti, delle telecamere, delle cose che io non so che intenzione hanno, non avendo mai avuto niente da dividere con questa gente che di punta in bianco mi aspetta fuori. Con quell'aria lì ho percepito, chiunque percepisce quando una persona, non ho fatto tempo a essere in Corso Mazzini che mi hanno messo sotto braccio, mi ricordo, e ho avuto tempo di mettere giù lo zainetto in strada e poi sono iniziato a darmi pugni in faccia. Uno soltanto era quello che mi picchiava e precisavo che stia andando a finire che uno era lì, che era fra me, quello che mi picchiava, ma non è che mi abbia difeso. Non so se stava cercando di sedare il suo grande boxer, il suo grande amico, e questo elegante uomo dal pugno facile, però era contro di me nel senso che non mi stava proteggendo dai pugni, perché i pugni li ho presi tutti, le mani, quello che mi picchiava le aveva libere e quindi se voleva dividere penso che gli poteva tenere le mani o fare qualcosa. Io i pugni, i calci, le testate, le ho prese tutte. La cosa brutta è che, è brutta come parola da dire, è importante che ad ogni pugno e raffroccio di merda, finocchio di merda, quelli come te nel mio paese vengono ammazzati. Nessuno è intervenuto di quelli che hanno visto dei passanti? I passanti penso che, credetemi, non avete le immagini davanti, ma io stesso da passante avrei solamente chiamato le forze dell'ordine, e avrei avuto paura a intervenire, perché veramente è una cosa da… guarda che se non arrivavano le forze dell'ordine a me mi ammazzava quello. Cioè è famoso per essere uno abbastanza violento, sì. Posso chiederti se hai paura adesso l'idea di tornare? No, io uscirò, continuerò a uscire, a camminare per Crevona, continuerò a andare in palestra. Guarda, io non ho paura di prendere, forse nella vita è meglio imparare a prenderle che a darle, però l'ha fatto Martin Luther King, l'hanno fatto tanti, ce l'hanno insegnato loro. La storia del marciapiede, ve l'ha ricordata, di Martin Luther King, che i negri dovevano scendere dal marciapiede per far passare gli altri. No, io cammino per Cremona, sono un cittadino cremonese e continuerò a fare la mia vita di sempre. Ho paura, ma ho paura per me, ho paura per tutti, ho paura di dare dolore e dispiacere alla mia famiglia, perché la cosa che è brutta è anche quello, che chi ti vuole bene soffre.